ciao a tutti e benvenuti su rom 2 total world siamo qui oggi tornati per dirvi un paio di cose importanti allora cominciamo subito con dire che potremmo perdere questa città anche se abbiamo un'ottima guarnigione c'è un titolo sono tante due divisioni nell'ingretto di soldati panti con spada che non è così cosa in tascudo ti stai difendendo da cartaggine davvero devo fare questa battaglia signore e signori vi annuncio che cartaggine è caduta e con sé tutti una conquista hanno ancora no possibile è impossibile è proprio impossibile che non sia caduta conquistiamo l'insediamento signori cantaggine non esiste più vabbè ce ne sei in città no vabbè cantaggine però non esiste più ebbene sì cantaggine è stata sconfitta per ora dai sardi che hanno la sardegna ovviamente e carta non esiste più in città no vabbè davvero abbiamo conquistato ecco aceriment conquistando cantaggine prima che andasse di moda mi fa piacere sono contento che davvero c'è davvero davvero un momento che ma si facciamola ragazzi difendiamoci da questo assedio che non potrebbe che non potrà mai vincere facciamola facciamola voglia di giocare voglia di giocare voglia di vincere così sconfiggeremo grazie a tutti 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 grazie a tutti